Sabato arriva il Bari, Alessandro a questo punto otto finali per il Pescara, quella con i pugliesi è la prima, gara da non sbagliare assolutamente. Sì, mi ha detto bene, otto finali, in ogni partita dovremmo essere perfetti arrivati a questo punto per raggiungere quanto prima la salvezza. Incontriamo una squadra che è tra le prime posizioni, secondo me ha una rosa molto importante e può andare in Serie A, però noi come ho detto prima dobbiamo essere perfetti in queste otto finali e quindi daremo il 130%. A proposito di Bari, tu sei un ex, hai giocato con i Bianconossi nel 2011, quali ricordi dell'esperienza pugliese? Sì, oramai è passato tanto tempo, però mi sono trovato molto bene a Bari, è una grande città, ha una grande tifoseria e per questo la rispetto tanto, però adesso io sto qui a Pescara e voglio pensare solo al Pescara e come ho detto prima di raggiungere quanto prima la salvezza. Arrivate a questa gara dopo il pareggio di Palermo, un'ottima partita quella giocata in terra siciliana, però i risultati dei posticipi hanno fatto addirittura peggiorare la classifica del Pescara. A questo punto bisogna tornare necessariamente alla vittoria, anche con i pareggi si fa poca strada. Sì, però io di natura sono fiducioso, ancora di più dopo la prestazione fatta a Palermo, secondo me abbiamo dimostrato, oltre all'atteggiamento che è stato infallibile, ma abbiamo dimostrato che sappiamo giocare e che abbiamo le palle e possiamo confrontarci con chiunque. Cosa è cambiato con l'arrivo di Pillon sulla panchina del Pescara? Perché a Palermo, al Barbera, si è vista una squadra riversa rispetto a quella delle precedenti esibizioni? Con Mr. Pillon sicuramente è cambiato l'atteggiamento e secondo me è riuscito a trasmetterci molte motivazioni e credo se l'abbiamo dimostrato in partita. Poi per quanto riguarda il modulo è cambiato, siamo tornati al 4-3-3 e sicuramente in queste ultime otto partite con questo modulo potremo dare qualcosina in più.